Il calcio di serie D 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 Senta, moduli ne possiamo parlare Lei ha detto, ha fatto due moduli 4-3-3, 4-2-3-1 Ma qual è il modulo prediletto per lei? Ma nessuno Io credo che il modulo debba essere sicuramente Un qualcosa dove l'allenatore crede E riesce a trasmettere anche agli altri Credo che sia molto più importante Avere i giocatori giusti per il modulo O comunque avere il modulo giusto per i giocatori che andremo a prendere Certo è che la serie D è un campionato infernale Vince solo una Poi il resto, la competizione che segue i playoff Insomma, non è che garantisca Di diritto una promozione nella categoria superiore O si arriva a primio oppure Non si è fatto quasi nulla? Beh, ma questo a me piace Perché a me piace arrivare a primio Quindi Credo che sia giusto così Arrivare ai secondi non serve a nulla E quindi so che cosa mi aspetta Chi conosce Come giocatori del campo basso Della passata stagione? Ma di sicuro quelli che hanno un po' più di nome Lo sapete anche voi Io tra l'altro Ho avuto il piacere di aver vinto insieme a lui il campionato a Teramo Che è Nando Vitone Insomma, conosco anche altri giocatori Ma non tutti, ma non tutti Soprattutto i giovani non li conosco Allora in bocca al lupo Quando inizierete a lavorare? Adesso stiamo decidendo In base anche a quelle che saranno le date di questo campionato Più o meno abbiamo capito che Non dovremmo rischiare nulla Se pensiamo di iniziare il campionato Alla prima domenica di settembre Quindi in base a quello Con i calcoli giusti partiremo per il ritiro Ma comunque credo che tra il 12 e il 15 luglio Questo periodo qua dovremmo iniziare Sono tre le formazioni molisane Che hanno diritto a prendere parte Al prossimo campionato nazionale di lettanti Se il campo basso muove i primi passi Verso la prossima stagione Tutto fermo a Termoli e Isernia Termoli ed Isernia devono accelerare i tempi Siamo a giugno Per poter prendere parte alla prossima stagione Bisogna muovere i primi passi Entrambe le squadre sono alla ricerca di una società Se ad Isernia il sindaco Brasiello Si è mosso per iniziare a reperire informazioni Necessarie per trattare con alcuni imprenditori di fuori regione A Termoli per ora tutto è fermo Non circolano notizie né indiscrezioni Entrambe le squadre hanno chiuso la stagione 2014-2015 Senza un presidente L'Isernia ha vinto sia il campionato di eccellenza Che la Coppa Italia regionale I successi sul campo non sono bastati Per evitare una stagione travagliata Sotto il punto di vista societario Con l'atternanza di diversi presidenti L'ultimo ancora al vertice del club È un giocatore Luca Carbone Che evidentemente non ha le possibilità Per ricoprire questa carica Stesso destino anche per il Termoli Che ha vissuto un'annata sportiva sempre in salita Con addirittura il cambio dell'allenatore Durante il ritiro estivo Ad agosto Sergio Lacava senza tesseramento Ha guidato il gruppo per circa 10 giorni Lasciando poi il Cannarsa Difficoltà societarie che hanno caratterizzato Tutto il campionato dei giallorossi A dicembre l'arrivo di Calarco come nuovo presidente Il professionista laziale con affari in Romania Aveva annunciato grandi cambiamenti Che poi non ci sono stati Il padron dei giallorossi Ha affidato a Pino De Filippis L'allestimento della nuova squadra Sotto il punto di vista tecnico La svolta c'è stata Metesserati non hanno percepito nessun rimborso La stagione 2014-2015 È stata portata al termine Con l'intervento di alcuni piccoli imprenditori adriatici E l'associazione Gente di Mare Che si sono stretti intorno a Falco e compagni Che hanno portato il Termoli Fino alla salvezza Senza passare per i play-out Un miracolo calcistico Il tempo stringe Giugno è iniziato A luglio bisogna perfezionare l'iscrizione Per evitare un altro campionato fatto di incertezze Termoli e Disernia devono riorganizzarsi E progettare una stagione In base alle proprie possibilità economiche I due club molisani Hanno una tradizione sportiva da rispettare E portare avanti La speranza è che qualche imprenditore si faccia avanti Per evitare che il calcio scompaia In due piazze Che hanno portato il nome del Molise In giro per l'Italia negli ultimi anni Calcio a 5 Scadano sabato Le iscrizioni per il primo torneo La Baita Le squadre potranno iscrivere massimo 10 giocatori Sono già 15 le formazioni Che da lunedì prossimo scenderanno in campo Il torneo di futsal mette in palio Premi in denaro Per le prime classificate Sempre lunedì prenderà il via Il primo torneo di calcio comune Di Ripa Limosani Saranno 16 le formazioni Che prenderanno parte alla manifestazione In programma al Marco Vita Antonio Anche in questo caso Ultimi giorni per perfezionare l'iscrizione In palio un monte premi finale Con premi speciali anche per gli iscritti Burraco sono giunti da ogni parte d'Italia Gli iscritti al primo torneo nazionale Città di Campobasso Sport ma anche cultura Con la visita guidata al museo dei misteri Dei misteri Ai nostri microfoni Due partecipanti Deborah Marino Una delle partecipanti Al primo torneo di Burraco Città di Campobasso Un torneo a livello nazionale Lei viene da Pescara Come ha trovato l'ambiente? Un ambiente molto gradevole La location è veramente strepitosa L'organizzatrice ha messo veramente il cuore in tutta l'organizzazione E visto l'aria che si respira devo dire che stiamo al meglio Lei comunque ci hanno detto è abituata a partecipare comunque a tornei in tutta Italia? Sì giro tutta l'Italia e per questa occasione addirittura sono venuta da sola con la macchina Non in gruppo La più bella esperienza che ha avuto girando tra i vari tornei? Di tutti i tornei posso annoverare A parte il torneo di Silvi della Luana Gianzante C'è il torneo di Vietri che è uno dei più belli Quello di Ercolano Quello di San Benedetto Quello di San Vensano E qui sono i più belli Anche Venezia Sono i più belli che ho visto La cosa bella è che comunque si conosce tanta altra gente, tante altre persone con la stessa passione Questo sarebbe il giusto spirito Quindi giocare, divertirsi, vedere nuove location e fare tante amicizie nuove C'è rivalità? Molta, al tavolo sempre, se no non sarebbe così Antonio Natilla Lei viene da Bari Io vengo da Bitonto Quindi provincia di Bari E arriva nella top ten dei campioni di Burraco Voglio precisare che sono il giocatore più titolato Perché io nella classifica dei giocatori bravi Annovero parecchi giocatori Però non farei una graduatoria per quanto riguarda le capacità La bravura, diciamo Perché sa benissimo che il Burraco La componente principale, secondo me, rimane sempre la fortuna Naturalmente noi ci mettiamo del nostro Con la nostra esperienza Con le nostre capacità Però il 70-80% è sempre la fortuna Purtroppo se non arrivano pinelle o giolli C'è poco da fare Allo stesso tempo io le dico che effettivamente Il Burraco come gioco, diciamo Al di là della competizione sportiva Però ci dà soprattutto lo spunto per aggregarci Quindi noi giriamo quasi ogni fine settimana In tutti i posti d'Italia Le location sono sempre più belle Ci confrontiamo con tutti Dal punto di vista culturale Al di là del gioco C'è anche un po' di relax Perché abbiamo modo di visitare i paesi Poi per quanto riguarda il gioco Io le ribadisco Essendo anche Presidente dell'Associazione Amatori Burraco Bari Che non farei una graduatoria Io mi diverto un'intesa con il mio compagno Antonio Antuofermo Da anni Con il quale abbiamo vinto più di 40 torri nazionali E questo è un vezzo da cui non mi sottraggo Anche se è preciso che sono il più titolato ma non il più bravo Diciamo che comunque la Puglia si annovera tra le regioni Forse dove è nato in Italia Perché sappiamo che comunque ha origini estere Ma comunque in Italia il meridione La Puglia è il luogo dove nasce il burraco Sicuramente sì Però adesso mi dà di nuovo spunto Per sottolineare una cosa per cui noi ci stiamo adoperando Perché in Puglia ci sono tanti bravi giocatori Però non c'è ancora lo spirito dell'associazionismo Ci sono pochi circoli A differenza di molte altre regioni d'Italia E questo è al nostro discapito Perché effettivamente Io per prima cerco di impartire delle direttive ai miei soci Soprattutto la correttezza al tavolo Perché se si è corretti ed educati al tavolo Già è un grosso successo Che effettivamente per noi che organizziamo Perché io mi metto anche della nostra parte L'interessante è che il torneo vada sempre a buon fine Si svolga sempre con i canoni della correttezza Della semplicità e dell'educazione E questo gratifica soprattutto il lavoro di chi organizza Torniamo al calcio Scadono il prossimo 11 giugno Le iscrizioni per la ventunesima edizione Del torneo Madonna del Carmine di Riccia Un mese di gare che verranno ospitate Sul campo sintetico del Puce Come ogni anno la famiglia Trunca Che organizza l'evento Ha affidato all'associazione Libertas La direzione delle gare Anche a Petrella Tifernina Torna l'appuntamento con il venticinquesimo Torneo di calcio a 5 Organizzato dalla società sportiva Montagano Petrella In collaborazione con il bar Pizzeria Capocefalo Il prossimo 10 giugno verranno chiuse le iscrizioni Per il torneo che prenderà via il 15 giugno Con finale il 17 luglio Le squadre iscritte dovranno essere formate Massimo da 13 giocatori Per i vincitori in palio Premi in denaro Lo sport per il sociale Questo è il light motive del Memorial Gianluca Fuso una gara di calcio ed uno spettacolo Che ha riunito gli amici di Gianluca Con lo scopo di ricordarlo Ma anche di riaccogliere i fondi per la isla Che lotta per cercare una cura alla SLA Il tecnico Angelo Bisci Non è voluto mancare Angelo Bisci dunque Presente a questo secondo Memorial Dedicato a Gianluca Per te che l'hai allenato Ma come per tutti noi Allenato ma più che altro era un amico Diciamola tutta dai Sì sono qui con grande orgoglio Perché Gianluca era veramente un ragazzo d'oro Cioè ha dimostrato in tutti gli anni Che è stato anche quando ce l'ho io Ma anche prima Di essere una persona che merita rispetto Io penso che da lassù lui ci vede Quindi era un orgoglio per me Essere invitato da questi ragazzi eccezionali Ed era d'obbligo venire a questo Memorial Perché ce l'ho nel cuore Gianluca È un anno che io non dimentico Quello di Campobasso dove c'era anche lui Quindi mi sono sentito in dovere Di stare a questa manifestazione Soprattutto per lui Ecco per chi fa ancora sport Voglio dire per te che sei un mister Ma anche per chi gioca Ci sono tanti ragazzi che giocano ancora Io penso che la domenica è bello Prima di scendere in campo Avere un ricordo proprio per questi amici Ma soprattutto per Gianluca Che era sempre uno pronto a darti una pacca Al momento giusto Prima di scendere in campo Dunque adesso c'è anche magari un po' di commozione Però voglio dire era sempre il primo A tirarti su Sì sì difatti la domenica Cioè lo sport è bello proprio per questo Cioè che nei momenti anche diciamo Tristi come questi dei ricordi Di una persona che ci viene a mancare Lo sport unisce Ci siamo rincontrati tutti questi ragazzi Stanno per lui Alle volte La mancanza di un ragazzo Può unire tante persone Può far capire che significa L'essere umano L'amicizia La scomparsa di Gianluca Ci ha fatto capire questo Soprattutto a noi che eravamo insieme Abbiamo capito ancora di più Il valore che si può avere Durante la vita Durante lo sport Durante le partite E quindi la domenica Con un ricordo come quello di Gianluca Che era come hai detto tu Una persona che ti dava la pacca Che in qualsiasi momento Sia se stavi perdendo Se stavi vincendo Cioè era sempre uno presente Ti incoraggiava sempre Quindi C'ho i brividi Perché lo ricordo veramente Con tanta stima E a vederlo in quella fotografia Mi sono commosso Cioè Mi sono scappate le lacrime Andando oggi al mio cimitero Quindi Capite che emozione che si può provare Anche Diciamo Nello sport Perché lo sport Sappiamo tutti quanti Se lo prendi nel modo giusto Ti fa vivere bene Ecco Bellissimo dunque Questo ricordo Cambio per un secondo argomento Perché Voglio ricordare Che sei rientrato Su una panchina molisana Quest'anno Ha campionato in corso A Montenero C'è stata una svolta Perché dal tuo arrivo Inutile negarlo La squadra ha cambiato marcia Avete vinto questo campionato Dunque Montenero Che riguadagna L'eccellenza Però Innanzitutto i complimenti Per questa grande rimonta Ma Soprattutto cosa c'è Nel tuo futuro Tra virgolette Ovviamente è presto Però Voglio dire Magari c'è intenzione di restare Oppure Non so Allora Prima di tutto I complimenti vanno ai ragazzi Perché sono stati loro Gli artefici Dall'inizio Io Ho dato il mio contributo La società voleva me Per dare questo contributo Ai ragazzi Per dargli un'idea Nel campo Loro sono stati bravi A esprimere Nel campo Quindi i complimenti Vanno a loro Io sono stato Veramente Orgoglioso Di essere Di nuovo Qui in Molise Perché Mi ricordate Sempre con stima E a me è un piacere enorme Perché Anch'io ho dato qualcosa A sti ragazzi Quindi è sempre un piacere Ritornare in Molise Nel futuro Con la società ancora Parliamo Per il futuro Cioè ci sta Un'intesa Dobbiamo solo incontrarci E vedere Il da farsi Poi Si sa Nel calcio Può cambiare Da un momento all'altro Le tue decisioni Quindi Aspettiamo giugno Metà giugno Luglio Per decidere Se in Molise Mi rivolgono Io sono contentissimo Di accettare Qualsiasi Essa sia la squadra L'importante È stare tra la gente Per bene Come quella del Molise Perché io ne ho incontrato Tante gente per bene A cominciare anche da voi Che fate Veramente Dei sacrifici A venire Nei nostri campi Tenerci Tutti informati Insomma Complimenti va anche a voi Che Ci date Quell'importanza Che noi in un certo senso Vogliamo Quindi Sono contentissimo Di stare in Molise Anche Per la stampa Che è sempre riconoscente Nei miei confronti Basket C regionale Si è giocata Gara 1 Della finale Playoff Il Termoli È ospitato E superato 72 a 67 Il Basketball Teramo Gara 2 Si giocherà domani Alle 19.30 Per il Termoli L'occasione Di chiudere La pratica Prima categoria Tornerà in campo Fra due settimane Il Campomarino Che dopo aver ospitato E superato Lo Yelzi Domenica 14 giugno Ospeterà il Matese In palio Il salto Di categoria Ne abbiamo parlato Con Ferrante Antony Ferrante Abbiamo fatto un bel primo tempo Il secondo Ci siamo un po' Addormentati Però poi Alla fine Il rigore Ci ha un po' Aiutato Tu hai avuto L'occasione All'inizio della partita E anche alla fine L'ultima Clamorosa Che potevi scaricare In rete Sì L'ultima La prima È stata un po' Perché mi aspettavo Che la prendeva Silvestre Che stava di fronte a me Ma la sono vista lì all'improvviso E ho provato a metterla Ma l'ho un po' smorzata E l'altra Volevo tirare Non te l'aspettate No Me l'aspettavo Però volevo tirare forte Volevo bucare la porta Però alla fine Non ci sei riuscito L'ho tirato alto Senti Un bel risultato importante Perché vi dà ancora stimoli A proseguire Adesso avete anche il tempo Per preparare L'ultima partita Contro l'FPV Matesa Sì Sarà una partita Molto difficile lì Perché È una squadra Molto dura Però Noi Andiamo Consapevoli Che siamo una squadra forte Che abbiamo Anche dimostrato Quindi Ce la giochiamo Ce la giochiamo sicuramente Bel gruppo questo A Campomarino Sì Veramente un bel gruppo Tutti amici Tutti È stata l'arma vincente o no? Sì Sì Sicuramente Proprio veramente Un grandissimo gruppo È arrivata la salvezza Per il Cerce Maggiore Una stagione intensa Per la squadra Del tecnico D'Uva Siamo con Giuseppe D'Uva Il mister del Cerce Maggiore Mister Salvezza raggiunta Eh Sudatissima quest'anno Perché Veramente è stata una stagione Molto Molto Travagliata Abbiamo subito tantissimi infortuni Dall'inizio di stagione Purtroppo Le condizioni del nostro campo Qui a Cerce Maggiore Sono note E questo ci ha condizionato Parecchio Abbiamo perso elementi importanti Durante la stagione Alcuni anche per motivi di lavoro E si sono trasferiti Addirittura all'estero E quindi Veramente Si è fatto tutto Molto difficile Devo comunque fare Un applauso a questi ragazzi Che ci hanno creduto Fino alla fine Hanno fatto un grande Girone di ritorno E si sono guadagnati La salvezza oggi Con questo play out Ma sa tutto Essere una bella partita Voi comunque Avete il vantaggio Del campo E dei due risultati Su tre Ma non avete voluto Proprio pensare A questo A portare la partita Sul pareggio Avete spinto All'inizio Avete concesso Ha messo molto poco In difesa Al Murgansia In attacco Un Silla Straripante Ha messo veramente A ferro e fuoco La difesa avversaria Sì Volevamo vincere la partita Non volevamo Speculare Sulla possibilità Di pareggiare Di avere Diciamo La doppia chance Per passare il turno Noi siamo una squadra Che Come ho detto prima Nel giorno di ritorno Abbiamo fatto bene Possiamo fare Delle buone cose Oggi i ragazzi Sono espressi bene E credo che abbiano Meritato di vincere Mettendo in campo La convinzione La convinzione Giusta In questi casi Per quanto riguarda Silla Mi fa veramente piacere Che questo ragazzo Oggi Sia stato determinante Perché è un ragazzo Del 97 Che abbiamo Scoperto quest'anno Un ragazzo Che vive In una casa famiglia Qui A Santa Croce del Sanni Vicino Cerce Maggiore E è venuto Dall'Africa Come tanti ragazzi Che sono sbarcati In Italia In cerca di fortuna È un bravo ragazzo Un bravo calciatore Veramente Lo abbiamo accolto Nella nostra squadra E nel nostro ambiente In maniera Ottimale Lui Ha ripagato La nostra fiducia Con la serietà Gli allenamenti Con l'impegno E con ottime prestazioni Come quella di oggi Una domanda Te la faccio A te Visto che di solito Ai mister Fare questa domanda È un po' Difficile Però tu che sei anche Al lato dirigenziale Di questa squadra Un pensiero Per il futuro Di questa squadra Per l'anno prossimo In questo cambiato Di prima categoria Beh adesso Insomma La stagione è stata Faticosa E quindi Godiamoci questa vittoria Sicuramente Nei prossimi giorni Pianificheremo Un po' Quello che sarà Il futuro Ci sono diverse Situazioni Che stiamo Vagliando La possibilità Di continuare Oggi Diciamo È messa un po' In discussione Dalla congiuntura economica Che comunque Insomma Nel nostro paese Si fa Si fa sentire La nostra Idea Da sempre È stata quella Di unire le forze Anche con Un'altra società Presente qui A Cerce Maggiore Sembra che Quest'anno Possano esserci Presupposti La cosa è caldeggiata Anche dall'amministrazione Comunale Che gradirebbe Una realtà Calcistica Di più alto livello Vediamo Se ci saranno I presupposti Non ci tireremo Indietro Altrimenti Appena ci saranno Questi incontri Poi dopo Valuteremo La situazione E Decideremo Se è il caso Poi di continuare Da soli O andare avanti Con un progetto Di fusione Questo fine settimana Si festeggerà Corpus Domini E quest'anno La scuola calcio Acli Ha organizzato La ventitresima edizione Del torneo internazionale Otto le squadre Che daranno vita Alla manifestazione Lazio Pescara Bari Perugia Le squadre italiane Mentre dalla Croazia Arriverà il Lico Dalla Slovenia Arriverà il Domzale In campo Naturalmente anche La rappresentativa Figi Cimolise E la società organizzatrice Calcio giovanile Non è voluta mancare L'appuntamento Con il torneo regionale Piccoli Amici Il Borrello Calcio Che ha subito Aderito all'evento Organizzato Dalla scuola calcio Olimpia Agnonese Classificandosi Al terzo posto Ne abbiamo parlato Con il tecnico Vincenzo Di Benedetto Allenatore Dei pulcini Della Perfetta Ringrazio il professor Sica Che è il responsabile Settore giovanile D'Agnoni Che ci ha invitati E speriamo Che riesca Una bellissima manifestazione Mi piace l'ambiente Molisano Molisano Già lo conosco Conosco pure Diciamo La prima squadra Mio figlio Ha giocato Con la Junior Sella E tre squadre Danza La scuola di danza Idei in movimento Della maestra Tonia D'Adderio Venerdì Ha in programma Il saggio Di fine anno Ad Ururi Al Creta Bianca Uno show dance Dal titolo Dedicato a Che spazierà Dai brani Ricordo di cantanti Che hanno fatto Grande la musica Come Lucio Dalla Mango E Elvis Presley A mix tratti Dai musical Più celebri Come Aggiungi un posto A tavola E Blues Brothers Bene Era l'ultima informazione Anche per questa edizione Del nostro TG Sport E tutto Buon pomeriggio